Ulivi attaccati dai funghi patogeni. Servono da subito 200 euro a campione per monitorare gli ulivetti dei colli euganei danneggiati da alcune muffe. L'allarme lanciata dai produttori ha coinvolto la Col di Retti di Padova, l'Associazione Produttori di Olio, il Servizio Fito Sanitario Regionale e l'Università. Si è deciso di passare subito alle analisi delle piante per trovare in tempi brevi una cura efficace a contenere i danni. I primi campionamenti partiranno nei prossimi giorni in quattro zone del Veneto, tra cui i colli euganei, in collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali del BO. Le piante più colpite sono quelle che presentano lesioni e ferite da potatura, ma anche dalla grandine. I funghi sono responsabili del dissecamento degli ulivi. Visto l'alto costo delle campionature da Col di Retti, i produttori si sono attivati con la Regione Veneto per trovare le risorse necessarie alla ricerca, alla cura e alla prevenzione. In provincia di Padova ci sono circa 80.000 piante di olivo su oltre 450 ettari. La produzione lo scorso anno è stata di circa 15.000 quintali di olive, da cui si sono ricavati quasi 2.000 quintali di olio.